Grazie La sua esperienza in rosso-blu dopo 5 anni molto intensi e ricchi di risultati il tecnico dell'Under-15, dopo aver centrato la qualificazione ai play-off assieme alle altre Under-rosso-blu, è partenza per la Cina, destinazione Jansu, club appartenente al gruppo Suning che possiede l'Union. Grazie al presidente Enrico Prezioso. Grazie a Michele Spravato. Prosegue al sito ufficiale del Genoa, che mi aveva aperto le porte. Ai direttori Perinecchi e Domatelli che hanno svolto opera di mediazione. Sono orgoglioso di aver contribuito ad allenare tanti ragazzi. Alcuni dei quali, come Pellegri e Salcello, debuttanti in serie appunto l'occasione che gli si è prospettata è importantissima, ma il suo cuore resta al griffone mi dispiace lasciare è stata una scelta complicata. Vado a lavorare per il gruppo Suning, in un calcio in crescita e con potenziali da sviluppare. Nel momento ci sono già quattro tecnici italiani che operano lì. Sono orgoglioso di poter dare il mio apporto in un gruppo di professionisti. È una nuova avventura per me e la fine. Mia moglie ha secondato la decisione. Un grazie lo dera a me. Da un certo punto di vista è di sacrificio, ma abbiamo tanto entusiasmo. Gervasi ha un piccolo rimpianto e un augurio al collega che gli succederà nell'incarico peccato esserci fatti sfuggire la qualificazione diretta ai quarti con la squadra. Formulo i migliori auguri al mister Massimo Sisini e a tutti i ragazzi della Leva 2003 per il prosieguo. Ciao! Ciao! Ciao!